Ciao a tutti, io sono Martin De Matteis, atleta di atletica leggera in generale e corsa in montagna in particolare. Mi piace correre sui sentieri in su e giù, in salita, in discesa e ho fatto anche discreti risultati. Quest'anno ho fatto terzo il campionato europeo di corsa in montagna e sono le duce ieri del tredicesimo posto ai campionati del mondo di corsa in montagna che sono stati qua a Massa e Carrara in un arrivo in una cava di marmo. Lui mi ha battuto perché è tre anni che non riesco a batterlo, quando è che riesco a batterti? Speriamo una volta di riuscire a arrivare sul podio io, non che tu mi batta perché io ho la sfiga addosso. Vi presento a tutti, anche io sono il suo gemello, anche se con i capelli lunghi e corti non ci assomigliamo così tanto, meno male. Però anch'io faccio corsa in montagna, ma atletica in generale, ho fatto anche nazionali di corsa campestre, in pista qualcosa, ma non l'amo più di tanto. No, ho detto che ho la sfiga addosso perché ieri ho fatto la gara, anch'io i campionati del mondo di corsa in montagna a Massa e sono arrivato quarto e dicevo quello perché è la quarta volta che arrivo quarto a un mondiale di corsa in montagna e mi manca il podio e quello che ho detto è che ci vuole un po' di sfiga perché però dai prima o poi arriverà e lui speriamo che mi batta ma che vinca perché per battermi e arrivare trentesimo e quarantesimo non è... Come ti trovi con Mizzuno, con questa nuova linea trail che abbiamo fatto apposta anche per le gare che facciamo noi sui sentieri in percorsi un po' più tecnici? No, benissimo, io mi trovo bene con tutte le Mizzuno, anche adesso sono uscite queste nuove scarpe, la Yate, la Kazan, la Mujin e da trail vanno benissimo, però noi non usiamo solo quelle da trail, io i campionati europei li ho fatti con la Ryder quindi usiamo le scarpe normali e ti fa una domanda a nostro modo, cura le ipame gagnà Eh, cura le ipame gagnà, lei beh, perché io sono come in Guimbarunde, sono come in Guimbarunde, dei tifus a Tifase e la nostra famiglia, no vabbè dai, ho detto che correre non è solo vincere perché è anche a volte sapere vedere che c'hai cento persone che sono venuti a farti il tifo, ieri c'erano la mia famiglia, i miei amici, i miei compagni di squadra, il mio allenatore e insieme a quelle 5.000 persone c'erano anche loro, è stato un bel effetto correre con loro per Mizzuno e ringrazio ancora la sorpresa che ci ha fatto anche Mizzuno, che ci ha fatto questa maglietta qua con scritto noi, con scritto... Allora, Martino e Bernard, trentesimi campionati mondiali di corsa in montagna, casette di massa, 14 settembre 2014 con Mizzuno e poi correre non è solo vincere quindi, boh, viva l'atletica italiana, viva Mizzuno e... Buca lupo a tutti Dai, viva... viva l'Italia Dai, viva l'Italia